. Sembra essere diventata una moda dilagante tra le vie quella di mostrare ai fan il proprio guardaroba. Un negozio più che un armadio, tra vestiti, scarpe, borse, occhiali e accessori, perfino per il cane. . Insomma, il classico paradiso terrestre per le fashion addicted che, a vedere tutti quei capi extra lusso sistemati alla perfezione nelle, immense, cabine armadio avranno provato un'invidia nera. . La prima, a memoria, è stata Chiara Ferragni, l'influencer italiana più famosa e pagata al mondo. . C'è chi ancora si sogna la notte quella parete piena di canel di ogni forma e colore. . Ma la Ferragni è in buona compagnia. Anche il marito, Fidez, come mostrato poco tempo fa, ha una collezione di snackers impressionante. . Poi, recentemente, è stato il turno di Vanda Nara, la moglie del calciatore dell'Inter Mauro Icardi di cui è anche agente. . Chi, qualche giorno fa, si è imbattuto nelle sue Instagram Stories non avrà creduto ai propri occhi quando ha visto la signora Icardi alle prese con il riordino dell'armadio. . . Vanda ha postato una lunga serie di foto e video di quel momento casalingo che si rende necessario in vista del cambio di stagione. . . Peccato che lei debba lavorare parecchio di più di noi con tutta quella roba. Senza andare troppo nei dettagli, basterà ricordare la quantità di loa boutin, le scarpe dall'iconica suola rossa, tutte messe rigorosamente con il tacco verso l'esterno e ordinate insieme alle altre scarpe in almeno 10 file di stiletti. . . E ora anche Donatella Versace fa entrare i fan nella sua cabina armadio privata. . . Che fa girar la testa per quanti vestiti e accessori conta? La stilista, che ha appena venduto il marchio Versace per 2 miliardi di dollari all'americano Michael Kors, ha condiviso su Instagram un video in cui mostra abiti, scarpe, borse e tutto il resto. . 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